Dalle previsioni meteo alla vigilanza contro furti e vandalismo. Anche in Puglia i satelliti diventano alleati degli agricoltori. Michele Peragine. Ampiamente utilizzati sin dal loro debutto per finalità militari, i sistemi satellitari trovano sempre di più applicazione per usi civili ed è il comparto agricolo quello che se ne avvantaggia di più, perseguendo, tra gli altri, insieme alla maggiore redditività, l'ottimizzazione dei processi produttivi, l'incremento della qualità, la riduzione dell'impatto ambientale. A Minervino Murgi stamane incontro di approfondimento legato ad una sperimentazione in vitivinicoltura della cosiddetta agricoltura di precisione, un modo moderno di conduzione agricola che porta benefici diretti e proprio grazie ai satelliti consente un miglior contrasto alle attività illegali, a cominciare dalle aggressioni ambientali. L'approccio olistico, cioè la capacità di guardare grandi dimensioni del territorio, ma soprattutto per lunghi periodi dei sistemi di osservazione della terra, consente per esempio di sorvegliare di scariche illegali, scariche a mare non consentiti, monitorare il valore di parametri importanti come la temperatura superficiale dell'acqua che poi è legata anche all'emergere di fenomeni meteorologici molto violenti come quelli a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi.